Amici di Armi e Tiro, quella che vi vogliamo presentare in questa circostanza, come potrete prontamente notare, non è un'arma, bensì una cartuccia. Una cartuccia molto particolare, si chiama Fiocchi Demolizione. È una delle cartucce che fanno parte della gamma Low Enforcement di Fiocchi, ma che sono anche disponibili per il mercato civile. Si tratta di una cartuccia basata sul bossolo standard del calibro 12, quindi 12-70, con fondello tipo 5 da 27 mm, orlatura tonda su dischetto frangibile in polietilene trasparente. Quello che la rende particolare e che determina il nome è il caricamento vero e proprio che prevede una palla unica, cilindrica, perfettamente cilindrica, come potete vedere, di polvere di piombo regata in una matrice di paraffina. Questo che cosa significa? Significa che questo proiettile è destinato ad avere il peso di un proiettile in piombo tradizionale, nello specifico il peso nominale è di 29 grammi, viene sparato a una velocità che è quella tipica di un calibro 12 a palla con bossolo di 70 mm. In questo caso l'azienda certifica una prova al banco di 395 metri al secondo, che però all'impatto contro superfici dure si schiaccia e si disintegra, evitando così completamente il problema del rimbalzo. Questo proiettile, questo caricamento nasce per i cosiddetti door breacher, che sono quei compiti speciali nelle squadre SWAT o comunque nei reparti speciali di polizia, che devono aprire le porte quando ci sono persone asserragliate all'interno. Perché abbiamo deciso di parlarvene? Innanzitutto perché è un caricamento del tutto inconsueto per il calibro 12 ed è interessante cercare di capire anche quale sia il comportamento dinamico di questa palla, cosa che ci naturalmente ripromettiamo di farvi vedere nella seconda parte di questo filmato. In secondo luogo perché è la nostra convinzione che questo proiettile possa avere un'utilità anche per quanto riguarda i compiti di difesa personale, in particolare all'interno delle mura domestiche. Questo perché per chi desideri adibire al compito di difesa personale l'arma calibro 12 e sappiamo che esistono numerose armi semiautomatiche e a pompa ultra compatte tattiche di moderna generazione, questo proiettile potrebbe avere il duplice vantaggio di consentire un'efficacia piuttosto elevata sul bersaglio umano, ma nello stesso tempo scongiurare completamente il rischio di rimbalzi pericolosi all'interno delle mura domestiche dove tra l'altro le distanze di ingaggio sono estremamente limitate. Come si può notare il proiettile non ha una struttura come può essere la borra proiettile Gualandi o la Brennec o tutti i classici proiettili a palla unica per il 12, quindi non presenta un impennaggio che consenta una stabilizzazione né ha un profilo autostabilizzante come potrebbe essere quello di una slag. Di conseguenza la portata massima in termini di precisione che l'azienda stessa consiglia non eccede i 10 metri. Il caricamento prevede al di sotto della palla una semplice borra biorientabile alta 20 mm che funge anche da coppetta otturatrice. Non resta che andare a vedere come si comporta al tiro e soprattutto vedere come si comporta su bersagli improvvisati che possano simulare le superfici che si possono trovare all'interno dell'abitazione. Siamo al campo di tiro Gualtieri Shooting Club di Gualtieri in provincia di Reggio Emilia e nelle nostre mani c'è un fucile a pompa Fabarm Sdas calibro 12 con canna lunga 510 mm. Questo sarà l'hardware che noi utilizzeremo per fare la nostra prova. L'idea che vogliamo dimostrare è che la cartuccia fiocchi demolizione possa trovare un impiego anche per la difesa personale abitativa proprio sfruttando le caratteristiche specifiche del materiale di cui è composto questo proiettile che come abbiamo detto è un'aggregazione di pulviscolo di piombo in una matrice di paraffina. La nostra prova prevede innanzitutto di realizzare delle rosate per capire qual è la capacità di concentrazione alla massima distanza consigliata dal produttore che sono 10 metri. Si passa quindi a una prova di penetrazione su una mattonella di gomma riciclata che sono quei antiurto che vengono utilizzati per esempio nei pavimenti dei parchi giochi. Si passa quindi alla prova su una piastra di 4 cm di calcestruzzo il cui obiettivo ovviamente non è quello di essere perforata da questo proiettile quanto piuttosto di verificare attraverso anche l'utilizzo di una telecamera con un elevato numero di fotogrammi per secondo la caratteristica proprio di disintegrazione del proiettile. Infine facciamo anche una prova su una tavola di legno trucciolato ricoperto da un'impiallacciatura spessa 4 cm proprio per verificare qual è la capacità reale di knockout se volete del proiettile da demolizione. Il tutto in comparazione con un proiettile slug che sarà il baschieri big game del peso di 32 grammi. Prima ancora di fare tutto questo faremo anche delle rilevazioni con il cronografo per verificare se il dato fornito dall'azienda sia coerente con le prestazioni reali. Il dato fornito dallo strumento risulta anche leggermente più alto rispetto a quello fornito di fabbrica. Siamo a 402,2 metri al secondo a fronte di un dato dichiarato di 395. Comunque siamo lì e il dato è perfettamente coerente. alla distanza di 10 metri che è quella suggerita come massima dal produttore possiamo verificare che i tre colpi sono finiti praticamente nello stesso foro. Gli impatti aggiuntivi sulla carta sono determinati dal borraggio che a questa distanza ha ancora una velocità piuttosto elevata. La palla infatti è disgiunta dal borraggio biorientabile che di conseguenza non funge da impennaggio ma è un elemento indipendente. Al di là di questo aspetto possiamo vedere che comunque colpisce perfettamente il punto mirato e la capacità di concentrazione dei colpi è assolutamente valida. I limiti operativi della cartuccia previsti dall'azienda sono entro i 10 metri ma noi a titolo sperimentale facciamo una rosata a 25 metri e vediamo come va. I risultati di tiro evidenziano che anche a 25 metri per lo scopo previsto che è quello della difesa evidentemente è un caricamento tutt'altro che da sottovalutare. Adesso la prova si sposta sulla piastrella di gomma rigenerata. Alla mia destra c'è la munizione baschieri big game con palla slug convenzionale in piombo di 32 grammi, alla mia sinistra la fiocchi demolizione. Il primo colpo sarà sparato con la slug, il secondo colpo con la fiocchi demolizione. Vediamo che cosa succede. Questi sono i fori di entrata. Quello superiore è stato sparato con la slug baschieri, quello inferiore, volutamente inferiore per evitare che si sovrapponessero, è stato sparato con la demolizione. Come potete vedere sono identici sia i fori di entrata sia sul lato opposto i fori di uscita e c'è stato ovviamente il completo attraversamento del mezzo da parte di entrambi. Anche in questo caso spareremo prima la slug e poi la demolizione. Anche in questo caso sopra abbiamo sparato la slug in piombo convenzionale. sotto abbiamo sparato il proiette da demolizione. La lastra di legno è spessa 4 cm, come si può notare è stata completamente attraversata e gli esiti diciamo di uscita sono abbastanza sovrapponibili con un leggero vantaggio per quello che riguarda la demolizione che evidentemente nel tramite si è maggiormente schiacciata e di conseguenza è riuscita a fare una cavità di uscita ancora più importante. Adesso spariamo contro la lastra di calcestruzzo, in questo caso non abbiamo necessità di sparare alla slug perché sappiamo perfettamente che sarebbe pericoloso come rimbalzo. Invece il plus diciamo tra virgolette che sarebbe più corretto dire plus di questa cartuccia dovrebbe essere proprio quello di farla disintegrare completamente contro il calcestruzzo senza alcun tipo di rimbalzo. L'impatto sulla lastra di calcestruzzo dello spessore di 4 cm risulta evidente da un punto di impatto ma risulta ancora più eclatante dall'altro lato. Dall'altro lato questo è l'effetto, praticamente si è distaccato uno scheggione di diametro di circa 10 cm e addirittura ha crepato completamente la lastra, tant'è vero che quando abbiamo cercato di girarla è caduta in pezzi. A fronte di questi effetti che possono essere definiti sicuramente macroscopici eclatanti per quello che riguarda l'efficacia terminale non si è avuta la benché minima proiezione di piombo sugli schermi che noi avevamo messo a pochissima distanza, inclusa anche la telecamera ad alto numero di fotogrammi per secondo, che sono rimasti assolutamente indenni. Si conferma conseguentemente quella che era la nostra ipotesi iniziale, cioè che questo caricamento possa risultare idoneo per quello che riguarda i compiti della difesa personale all'interno delle mura domestiche, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza d'impiego rispetto a una slag convenzionale. Il tutto però concentrato anche rispetto a una efficacia terminale che è assolutamente pari a quella di una slag convenzionale.